Inebriante ed inebriato, metti una struttura all'avanguardia ed un ospite doc, tanto per rimanere in tema enologico e la visita presso tenuta la fortezza diventa un percorso che è un mix di sapori, di racconti e di calici sempre pieni. L'ex attaccante del Napoli Calcio e l'attuale opinionista televisivo Roberto il Pampa Sosa è stato ricevuto presso la nota cantina vinicola in quell'Itore Buso per visitare in lungo e largo la struttura di Contrada Tora. Insieme alla compagna, il Pampa ha visitato l'intera struttura sorseggendo un bicchiere o forse qualcuno in più di un aianico che ha apprezzato tantissimo, accompagnato da prodotti tipici locali. All'intero della struttura poi è stato allestito un collegamento esterno della fortunata trasmissione dei super goal di Canale 8. Sì, infatti a noi del quinto e quarto posto ci interessa ben poco in questo momento. Facciamo l'ultimo brindisi, vi promettiamo che facciamo l'ultimo brindisi. Oltre al Pampa hanno preso la parola Giovanna Fusco, event manager della Fortezza, la modella Valentina Iazzetta ed il super tifoso azzurro Domenico Rosso.